Buongiorno ragazzi, pasta e patate, quindi uno spettacolo, ho usato la pasta mischiata, cioè mista, quindi bella, diciamo come diciamo noi, azzeccata, quindi non brodosa, patatine fritte, però non sono per me queste, quindi non per me questo, quindi io mangerò solamente la pasta e patate, quindi è uscito un po' di più però non lo mangio tutto comunque perché lo vedo che è abbastanza, ecco qui il piatto, quindi un bel piatto, ma mangio solo questo però, nulla più, quindi il secondo poi lo faccio stasera, continuano a friggere le patate qua, quindi è invitante, la faccia è buona, questo qua che mi dispiace non si può, ecco qua terminato le costine messe nel forno, patatine fritte, quindi avete visto già, ma questo non è per me, quindi è per mia moglie, anche questo sarebbe bello però qua ci sta la frittura e non posso per via del fegato, quindi già mangiare la pasta non non va bene, però per la cosa del colon devo cambiare un pochino, vabbè buon appetito a tutti ragazzi, alla prossima!